Bentornati a tutti, io sono Plisskin, continuiamo con Starfield, tanto per cambiare. Vediamo che ho 12 templi inesplorati, diversi poteri ovviamente che mi mancano, quindi prima di andare a fare l'ultima missione, o perlomeno quella che so essere l'ultima missione davvero, direi che è il momento di andare un attimino da Vladimir a fare il punto della situazione di questi templi. Speravo di potergli parlare, ah vabbè, magari devo mettere i manufatti nell'armilla prima. Che cavolo, dove? Chi ti ha detto di scendere? Ok, facciamolo. Ok, quindi funziona così. Vabbè, parliamo con i compagni, una è qua. Se lo dici tu? Ah, la relazione. Io volevo i poteri. Andiamo veloci in questi dialoghi, ah. Dici che andiamo in tutti in universi diversi? Sì, vabbè, ma perché è cresciuto in un altro universo. Boh, tanti dubbi, tanti dubbi. Ma chi se ne frega, dico io, è un gioco, siete virtuali. Lo so, potrei rovinarmi 80 ore di partita, però... Si fa anche questo per i video. A meno che non siano tutti quanti alla loggia. Ecco qua, Vladimir. Dimmi. Ok, grazie. Se io fossi sentient, sono sicuro che sarei... Sì. Ho spero che il processo di diventare starborni è fatto senza causare alcun trauma fisico. Ma, secondo il fisio mondiale non conosciuto... Buongiorno, Capitano. Dice un punto di vista statistico, tu hai stato... Oh, wow. Sono potente! Non avevo dubbi. Allora, tu... Tu hai un momento per me. Ah, è piacere di raccogliere tutte le modificazioni all'Eye per trovare gli artefatti. Ma lei ha ottenuto la scuola. Ha scelto le nostre fortuna, per sicuro. I miei poteri! Ah, sono solo una scuola vecchia nella scuola, cercando di farlo bene. Spero prendere la scuola quando tutti è venuto, nella Unità. Sarebbe un corso di Constellation per un nuovo inizio. Non è la prima volta che prendere una squadra, ma... Spero prenderlo in veloce. Bene. Vieni con noi. Dici il senso segreto di un membro di squadra riuscita. C'è un modo per che le cose finiranno. C'è un modo per che le cose finiranno prima di tempo. E la scuola si tratta. Beh, hai peggio di sempre. Detro? Sei peggio di sempre. Spero si tratta quando passi all'Eternity's Gate. Dive al prossimo universo qualcosa di più a parlare, ok? Ho pensato su questo. E... Ok, non vorrei venire a qui Vabbana, vabbana Vabbana, vabbana Vabbana, vabbana E' questo che c'entra? Comunque Possiamo provare a Perché mi hanno messo i poteri? Ho scoperto per caso il tasto per andare direttamente nei poteri? K, va bene Ho scoperto a fine gioco A posto Ma non voglia di parlare con tutti Dai, ma siete seri? Si metto viaggio rapido? Che succede? Visto che non ho voglia di parlare con tutti Andremo in un punto a caso Tanto il gravi salto ci porterà verso l'unità, giusto? Non so se ci sono già stato, non ho idea Pazienza Wow, sembra un salto piuttosto lungo questo Che aspetto avrà l'unità? Oh Un attimo fa ero nella mia nave E trovo un Un me stesso Queste sarebbero galassie Godiamoci il momento No, andiamo avanti Wow Ok Se volevano fare una cosa Epica Una sorta di universo Dove io sono Più grande di una galassia Anche se le cose ruotano in modo strano Ammetto, eh Perché ci sono io Che parlo a me stesso E con la tuta di Constellation, poi Anche se le cose ruotano in modo strano Un pensiero Un pensiero Puede che qualcuno Nessuno veramente Spreire la realtà outside of oneself All of time and space Filters through A singular perspective I am as much you As you are a part of everything All points connect to here When a star is born or dies Its existence beats through the heart Of this place The unity I have seen all you are Have been and could be Do you feel like you've lived a good life? Is there anything you regret? Eh That's good You will need that clarity for what comes next And what's next In order to become Starborn You must give the universe one last thing Yourself What? That intangible part of you Che qualcosa che ti rende unico tra l'infinito Esploderebbe come una supernova Una parte di te Fuggerà con l'essenza di questo universo Ma un'altra parte Lascia col botto Andarsene col botto Che cosa cambierà? No Nessere Siple 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 Si Fuggerà Si Si Siple Si 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 Un giorno potresti anche incontrare i creatori, ma non questo giorno. Per quanto riguarda il perché, così che tu puoi rispondere a ogni domanda, così che tu puoi stare davanti a me per un tempo immemoriale e riuscire al mistero del cosmo non finito. Per quanto riguarda la morte di un star crea nuovi tipi di materiale, quindi la parte di tuo essere diventata con la unità. Questo parte è quello che diventano starborni e si tratta nel multiverso. Inoltre i tuoi occhi, sarà come se si riusciti da un sogno. Passi a la gate di luce, e ti diventai starborni. Tutti si riusciti, e ti si riuscirai a un'altra parte. Ma questo non è il vostro potenziale potenziale. Puoi riuscire, riuscire dalla unità, fino a che gli starci fanno fuori, e ti si riuscirai a un'altra parte, nel universo. Puoi vivere la vita che hai. Mi piacerebbe parlare con te una volta. Tutti tutti. Tutti ogni versione che è qui nella unità. Ora. Perchè fuori nelle starci. Beh, mi piacerebbe andare a tenere i miei poteri, ma... di questa affinità, ti offro una scelta su cosa succederà all'universo che potresti lasciare. Come l'essenza di chi sei, è spiegata all'interno del space e del tempo. Oh, posso letteralmente avvicinarmi a... qualunque cosa sia questa. Per vincere tanto il hunter e il emissario, il pò per la unità in questo universo è lasciato per i nostri sistemi di scelta per scelta, per loro, non interruttato da un potente starborn. Ok, quindi... qualcuno scoprirà comunque queste cose. Voi chi siete? Vlad, Matteo, tizia di quando ricordo il nome? Il pò che resta dietro, in tempo pubblicare i loro dati sui scelta sui scelta degli artefatti, del starborn e dell'unità. L'esplorazione del space all'interno dei sistemi di scelta ha dato nuova vita, come le persone cercano di casa, fuori sui scelta. E voi chi mi dite? L'esplorazione delle specie di Asili segue a una massima riduzione in attacchi terromorphi all'interno del sistema. Ah, avevo ragione! Nel stesso tempo, la necessità di spiegare le Asili a lungo e a lungo aumenta la cooperazione con le affaccezioni. La credenza dell'Unione come il leader di diplomatica dei sistemi di scelta. Triplamente ragione. Tutti che... I batteri! Dobbiamo usare i batteri perché facciamo più fretta! L'assenza! Sì, la scienza che non è testata, tante variabili e... Gnie gnie! Tutti che mi hanno fatto la testa così per la scelta degli Asseles e adesso ho visto che invece è stata quella migliore. Ha! Grazie! Quello cos'è? Riguarda per caso l'altra quest del Ryujin? Sembrerebbe di sì. Intanto c'è Andreja. Il tuo amore, Andreja, eventualmente decide di essere riportata herself. Il tuo compromesso con l'altro basterà tutte le relazioni in questi sistemi segnali. amore. La scelta è diventata. Più le persone in casa Varun cominciano a questionare la sua ortodoxia e guardano all'uomo di fuori. Le industrie producono l'interno Neuroamp che diventa il dispositivo che ogni negoziatore diplomato e cliente compra. Quando le persone pensano di success pensano di Ryujin se vogliono o non. Non so se questa sia una cosa buona o no. Probabilmente no. E vabbè. Pazienza. Dunque adesso facciamo che magari i poteri me li prendo per conto mio e li faccio vedere un'altra volta. Ora andiamo avanti e vi mostrerò cosa succede a fare questo salto. la gate di luce ti prenderà a un altro universo o semplicemente per andare fuori fino a che le stelle fanno per tornare al tuo barco. e allora andiamo. Vediamo che succede. Tanto ho un botto di salvataggi penso di poter tornare indietro, no? andiamo. Andiamo. qua televisioni un un universo universalmente enorme gigante è un filmato di bassa qualità comunque perché vedo un po' di sporchaggine dell'immagine. bella questa cosa mi conviene questo è lo spazio oscuro mi metto comodo allora mi metto comodo allora bello non è che salto in che punto della storia mi risveglierò quando tutto è iniziato incontrerò un altro me stesso no incontrerò i titoli di coda va bene skippabili dannazione ehi nuova missione un piccolo passo astrale ecco cosa sei ora un essere che ha toccato l'infinito la tua storia è finita ma ricomincerai da capo in questo universo e in innumerevoli altri ricordi tutto ciò che hai imparato ma i tuoi averi e tutti coloro che conoscevi fanno ormai parte del passato nelle mie armi esplora questo nuovo universo e tutto ciò che ha da offrire magari fa un altro viaggio attraverso l'unità oh mi trovo su un arion vectera ehi questa è nuova è un completo tra l'altro non è diviso tra casco e varie è abbastanza forte caccia bestie raffreddamento al liquido e riflesso boost pack bilanciato beh una tuta unica ovviamente sono qui il primo pianeta tutti i posti che ho visitato non sono più segnati come visitati probabilmente e qua devo raggiungere la loggia interessante proviamo a pilotare questa nave è quella che ho cercato di rubare innumerevoli volte ah spara così wow con lo scatolo diventa invisibile e va a una velocità di 700 anche con così poco motore gli scudi sono un po' deboli e vabbè quindi dobbiamo andare qui dobbiamo andare qui tremuto è diversa anche la scremata del gravi salto ricorda i i simboli dei manufaci non registrato siamo dettagli beh, è quello che non siamo dettagli questo è un problema cosa potenzialmente ci potenzialmente ci sono sai cosa? solo guarda ancora mentre faremo la controlla controlla stiamo completamente posso andare? bene, grazie devo riesplorare da capo è imponente eh atterrare con una cosa del genere qui dunque stavolta vado io da loro non vengono loro a prendermi vediamo se ci sono differenze siete tutti qui? scusami scusami questo è un privato aspetta c'è qualcosa di conosciuto Vasco identifichi scanning cross-referencing dei registri conosciuti delle nostre organizzazioni si ricordava della mia faccia? il miner di Argos l'extractor è perduto come noi avevamo l'artifacto da Vectera l'interno l'interno precedente non conosciuto vedo Vasco ha già l'artifacto quindi perché stai ora ripeti missione principale o salta missione principale beh saltiamo no? vedo quindi alcune delle nostre teorie sull'artifacto sono corrette stai prendendo loro perla? cosa se questa persona è solo una delusione? non ha più ricordi non ha più ricordi diciamogli tutto sono i miei amici iniziamo con questo e poi chi dice tutto così esatto brava eh eh vediamo che gli dico eh Ah beh, è giusto, questo magari non glielo ha detto. E siamo grati per questo, Starborn. Ora, troviamo gli altri. Ok, hai fretta. Oh ma guarda, a quanto pare questi sono accumulabili. A quanto pare si continua con la ricerca, ma io volevo prima completare i poteri nel mio universo, per poi fare il salto a questo punto. Quindi direi che... Garicherò un salvato già precedente, radunerò i poteri, tornerò qui fino a questo punto e continueremo nel prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti.